Il prezzo del carburante scende per effetto del taglio delle accise, ma i gestori degli impianti si dicono preoccupati perché la gente terrà scorte di benzina in casa. Per un mese vedrà che la gente, tutti si riforniscono, terranno le scorte dentro casa. La procura di Ancona apre un'indagine su possibili illeciti, mentre il Codacon si invita a chi risiede nella provincia anconetana a partecipare a un'azione collettiva per chiedere un risarcimento. La prima volta di una donna alla guida della Confederazione Italiana degli Agricoltori della provincia di Peso Urbino, si chiama Sabina Pesce ed è un'imprenditrice nel settore bio. È morto a Trieste all'età di 42 anni. Il giornalista Marco Pivato, figlio di Stefano, rettore dell'Università di Urbino, è precipitato dal quinto piano dell'hotel Savoia. Ecco gli scogli che serviranno a difendere il tratto di costa a Sassonia di Fano, rimasto scoperto. È chiaro che l'impegno dell'amministrazione per Sassonia è quello di coprire tutto il setto, tutto il paraggio, dalla pista dei go-kart fino al porto. Come abbellire il balcone di casa con piante e fiori di primavera? Ecco i consigli dell'esperto. Ben tornati cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione sul canale 19 c'è Occhio alla Notizia, il telegiornale. Cominciamo con il parlare del taglio delle accise che ha fatto abbassare il prezzo dei carburanti alla pompa. Come vedremo tra poco un provvedimento che da una parte accontenta gli automobilisti ma dall'altra continua a preoccupare i gestori dei distributori. Da una parte perché lo sconto durerà soltanto un mese ma dall'altra perché la gente sta già pensando di organizzarsi e di fare scorte da tenere in casa. Adesso è una corsa proprio al rifornimento. Adesso per un mese vedrà che la gente, tutti si riforniscono, terranno le scorte dentro casa, con i fusti, con le tanniche, per risparmiare qualcosina. Questo è il problema. Anche a Fano iniziano a vedersi gli effetti dei decreti entrati in vigore martedì scorso. Finalmente diesel e benzina sono scesi sotto i 2 euro al litro e in alcuni impianti si toccano i livelli precedenti alla guerra in Ucraina. Un sollievo generale per i consumatori anche se lo sconto durerà soltanto 30 giorni ma il governo ha stabilito che un'eventuale proroga potrà essere decisa con un semplice decreto ministeriale. Intanto prezzi giù anche di 30 centesimi trattaglio delle accise di 25 centesimi ed effetto indiretto dell'IVA. Per evitare possibili speculazioni sono stati rafforzati i poteri di controllo del garante dei prezzi e della guardia di finanza. È venuta più a fare il pieno, chi porta via con le tanniche perché tanto entro il 22 di aprile ritorna tutto normale non so questa economia come andrà a finire perché con questo prezzo che abbiamo adesso della benzina a parte noi gestori ci danno una sciapata che con l'aumento della luce, l'aumento di tutte le cose che ci hanno aumentato non ci stiamo più dentro. Poi se uno ha degli operai il costo degli operai costa una roba esagerata. Noi alla fine o prima o poi dobbiamo chiudere, insomma dobbiamo andare via. Invece una volta questo era un distributore che ci viveva due famiglie, ci viveva benissimo. Oggi come oggi invece ti stiamo tirando la cinghia. Infatti ha spiegato le tizi, le commissioni sulle transazioni effettuate con le carte di credito rappresentano un costo importante per noi gestori, d'altra parte le istituzioni non ci aiutano. Dopo mezzogiorno dalle 4 in poi ci hanno dato l'autorizzazione di calare questi 30 centesimi, si è visto subito un flusso di gente superiore da prima, se no si lavora solamente un'ora la mattina e un'ora la sera quando la gente esce dal lavoro e se no durante il giorno qui si giochiamo le carte. Noi, ha poi raccontato il gestore, ci riforniamo due volte a settimana, di solito il martedì e il venerdì il prezzo va dai 2 centesimi sul self service e quasi 3 centesimi sul servito. Noi lavoriamo con il piccolino, con le macchine, piccoli camioncini, piccoli artigiani, questa gente qua. Adesso per fortuna che c'è questo 110 che ha dato il governo, bene o male un po' sull'edilizia si è mosso un po', ma roba da poco, non è che ci sia molto lavoro, né per me né per me né per gli altri. In più i distributori sono aumentati, invece di 1.000 sono aumentati. Io non capisco perché il comune e il governo da tutte queste autorizzazioni di aprire questi impianti che non servono a niente a fin di conti. In questo momento, a concluso Letizzi, il prezzo è leggermente diverso tra i vari distributori della zona, ma dipende anche dalla qualità del prodotto. Chi ha il biodiesel, chi ha invece il diesel normale, il diesel raffinato con l'additivo dentro, ma la gente questo non lo sa, che dopo costa qualche centesimo in più e la compagnia te lo mette qualche centesimo in più, perché oggi ci sono le macchine, l'euro 5 e l'euro 6, che non è che va con il biodiesel, va con la roba buona, questo è il problema. Lei è contento di questa piccola diminuzione di 25-30 centesimi circa, oppure pensa che si potrebbe fare di più? Il discorso è questo, io per lavoro faccio intorno ai 40-50 mila chilometri l'anno, per cui incide sostanzialmente sul bilancio, faccio il libero professionista, per cui il carburante per me è una voce di costo importante, è chiaro che i prezzi andrebbero regolamentati e tutto questo su e giù non aiuta. Per questo io ho preso la patente nel 1996 e la benzina non è mai scesa. Lei cosa fa? La diesel-benzina? Gasolio. Diminuito il gasolio? Circa 30 centesimi. Pensa che si potrebbe fare di più? Io penserei di sì, insomma, mi sembra che hanno fatto degli aumenti un po' ingiustificati. Poi dicono che dureranno un mese circa queste diminuzioni di prezzo. Dopo torniamo come eravamo prima. Quindi solo un contentino? Direi di sì, ma speriamo che prorogano queste condizioni qua. Almeno questo. Per le famiglie che sono tante e sono sempre più in aumento, che fanno difficoltà a giungere alla fine del mese e a mantenere soprattutto i figli, devo dire che benvenga qualunque cosa che le permetta di vivere più dignitosamente. Come ci difendiamo allora noi consumatori da questi rincari? Andare più piano e far meno strada possibile, altrimenti è difficile. Se poi dico queste cose, questi soldi servissero a pagare un po' di debiti dello Stato, uno farebbe anche il sacrificio, ma purtroppo non mi pare che siamo sulla strada giusta. Certo che è una presa in giro, sono tutte manovre politiche ed economiche, noi siamo solo le vittime, dobbiamo sottostare a questo, non c'è niente da fare. Addirittura ci sono delle cise che sono dal 1935 in atto, quindi forse sarebbe il caso anche di toglierle quelle, cosa pensa? Assolutamente sì, ma più volte è stato detto, solo che non si fa mai. Quanto faceva prima di benzina una settimana fa? Io facevo, guarda, con 30 euro ci giravo tre settimane. Invece adesso si pensa di risparmiare un pochino? 30 euro mi bastavano per quattro giorni, quindi ho approfittato per questo. Soddisfatto fino a un certo punto, ovviamente ne risentiamo tutti di questa situazione, quindi possiamo dire che almeno meglio di niente rispetto a prima sta andando. Fra un mese quando risaleranno di nuovo? Bisogna comunque spostarsi, quindi in qualche modo... Lei farà ugualmente le sue passeggiate in moto o dovrà farne qualcuno in meno, se i prezzi risalissero nuovamente? Finché posso permettermelo, sì, continuerò a farli, magari qualcosa di meno, però qualcosa farò. Una passione che non può essere accantonata? Assolutamente no. Sicuramente pensavo che si potesse fare qualcosa di più, è un primo risultato, speriamo almeno che duri, insomma. Secondo lei durerà? Dubito. Certo è che con i livelli a 2 euro, penso soprattutto agli autotrasportatori che vivono sul prezzo del carburante, credo che sia davvero una situazione molto critica per loro. No, 1,75, ecco, mi stai chiudendo adesso 50 euro, perché c'è metà serbatoio, ho preferito farlo oggi. Ha risparmiato oggi? Sì, ha risparmiato. Penso di sì, l'ultima volta era 1,82 l'ho fatta. Quanto ha speso? Avevo speso una settantina, mi sembra. Non appena passa il periodo in cui viene applicata la riduzione delle accise, poi dopo l'aumentano di nuovo. Cosa pensa di questa situazione che ce la reaumentano nuovamente? È una pazzia, è semplicemente una pazzia di ciascuno. Io non patteggio per nessuno. Sì, certamente c'è stata un'invasione terrificante, però diciamo che ormai anche Zelensky dovrebbe capire che ha perso la guerra, c'è poco da fare e non dovrebbe a questo punto indurre l'Europa a entrare in guerra, perché sarebbe una guerra mondiale che non avrebbe senso a quel punto, sarebbe una catastrofe in mane. E contro il caro carburante parte ad Ancona la prima azione collettiva Codacons, volta a far ottenere a cittadini ed imprese il risarcimento del danno subito a causa delle speculazioni sui prezzi di benzina e gasolio. Infatti la Procura ha avviato un'indagine per verificare i possibili illeciti alla base dei rincari spropositati dei listini alla pompa, che hanno portato i carburanti a costare il 50% in più rispetto allo scorso anno. Rialzi non giustificati, ha dichiarato l'Associazione, né dalle quotazioni del petrolio né dai tagli nelle forniture. Per questo motivo il Codacons ha pubblicato sul proprio sito internet il modulo attraverso il quale tutti i cittadini residenti ad Ancona, proprietari di automobili e tutte le imprese della provincia che operano con i carburanti, che possono costituirsi parte offesa nell'inchiesta aperta dalla Procura, primo passo per chiedere e ottenere poi un risarcimento dei danni, qualora dalle indagini della magistratura dovessero emergere degli illeciti. E si è parlato di caro carburanti anche nella nona Assemblea della Confederazione Italiana degli Agricoltori, che per la prima volta nella provincia pesarese ha eletto una donna a capo dell'Associazione di Categoria. L'Assemblea della CIA si è espressa. Sabina Pesci, 44 anni, dell'azienda San Cesario di Fano, sarà la guida dell'Associazione della provincia pesarese per i prossimi quattro anni. I ringraziamenti vanno a tutti gli agricoltori della CIA che mi hanno sostenuto, mi sostengono e mi sosterranno, spero, in tutto il mio mandato. Un ringraziamento va anche a tutti i funzionari che stanno lavorando per noi, a tutte le istituzioni che si stanno adoperando per dare la possibilità agli agricoltori di fare un lavoro importante nell'ambiente. Un settore molto caro a Sabina, impegnata nella coltivazione di ortaggi biologici per la trasformazione su quasi 5.500 imprese agricole della provincia che aderiscono alla Confederazione Italiana Agricoltori. Il 40% è guidato da donne, ad annunciare le prossime sfide il direttore regionale Gianfranco Santi. Occorre assolutamente fare percorsi istituzionali che poi ci permettono di migliorare questo tipo di burocrazia, ma anche tutti quelli che sono i vari lacci e laccioli di norme, quindi modifica di legge, per poter realmente da parte dell'agricoltore mantenere l'ambiente. Oggi siamo in una fase però molto delicata, che è quella di una crisi complessiva che abbiamo, abbiamo costi di produzione che sono saliti alle stelle, abbiamo anche i media che disinformano, secondo il mio punto di vista, ma secondo proprio una certezza, che si lancia un messaggio. Aumenta il grano e aumenta il pane e la pasta. Sì, è vero, ma il grano incide all'interno di un chilo di pane per circa 25,30 centesimi. Aumentato il grano lo portiamo a 40,45, ma se il pane aumenta di 2 euro il problema si pone. Vale la stessa cosa per la pasta. Invece, sul caro Carburanti, Santi ha annunciato una grande manifestazione che si svolgerà entro metà aprile e che coinvolgerà quattro regioni, Marche, Umbria, Lazio e Toscana. Ridurci il gasolio di 15 centesimi, ha commentato il direttore, è una presa in giro. Ad ascoltare gli appelli della categoria, anche l'assessore regionale all'agricoltura, Mirko Carloni. Questa fase è una fase nuova, che va gestita non soltanto come transizione ecologica, come pensavamo fino a qualche mese fa, ma bisogna ripensare tutti i fondamentali della politica agricole comune, del PSR, cercare di agevolare la crescita delle imprese perché devono avere una dimensione tale che possa reggere un momento così alternante di costi, di materia prima, di scarsità, di frumento, di colza, di mais. Stiamo parlando di una crisi che potrebbe mettere in ginocchio questo settore se noi non lo rafforziamo sui suoi fondamentali e soprattutto se non aiutiamo le imprese a resistere a questa fase e a crescere, a diventare più tecnologiche, più innovative e riuscire anche a fare quello che è la cosa più importante, il ricambio generazionale, fare in modo che ci siano dei giovani che portano avanti questa attività. È morto all'età di 42 anni a Trieste il giornalista riminese Marco Pivato, figlio di Stefano, rettore dell'Università di Urbino dal 2009 al 2014, scrittore e ricercatore scientifico, il 42enne è precipitato ieri sera dal quinto piano dell'hotel Savoia. Oggi il rettore Giorgio Calcagnini ha espresso profondo cordoglio di tutto l'Ateneo Urbinate che in più occasioni ha avuto modo di apprezzare le doti umane e professionali di Marco in occasione di convegni e conferenze, nonché per le pubblicazioni scientifiche di alto valore divulgativo. Il giornalista lascia la moglie Alessandra e una bimba molto piccola. Brutto risveglio questa mattina per i residenti di Via Faggi a Pesaro, dove almeno cinque automobili sono state danneggiate durante la notte scorsa. Secondo le prime informazioni, pare che i danni, che ammontano complessivamente a diverse migliaia di euro, siano stati provocati da un automobilista probabilmente ubriaco. Un incidente si è verificato oggi poco dopo le 14 in Via Tognolo, a Bellocchi di Fano. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto che procedevano nella stessa direzione. Un 59enne di origini extracomunitarie e residente nel Pesarese era a bordo di una Volkswagen Polo quando, giunto all'altezza del Civico 5, ha rallentato la marcia per svoltare a sinistra. Nell'eseguire la manovra è stato tamponato da una lancia Ypsilon, condotta da una donna di 54 anni residente nell'entroterra fanese. A causa dell'urto, la Polo ha effettuato una rotazione in senso anteorario, quasi completa, fino a terminare la sua corsa al di fuori della carreggiata. I due conducenti, per fortuna, ne sono usciti illesi sul posto la polizia locale per i rilievi di legge. Il pontone carico di scogli proveniente dalla Croazia è arrivato questa mattina davanti alla spiaggia di Sassogna a Fano per completare le due scogliere rimaste incompiute. Nei prossimi mesi, dunque, verrà realizzata l'ultima scogliere davanti ai bagni Carlo. Inoltre, l'assessore Fanesi ha elencato i prossimi interventi sulla costa fanese. Questa mattina alla Sassogna di Fano si sentiva solamente il rumore delle onde del mare e della gru del motopontone al lavoro per la conclusione delle due scogliere incompiute nell'ultima parte della spiaggia. Lavori in corso per il penultimo tratto delle barriere frangifrutti rimaste in sospeso dallo scorso anno. Questi lavori che dureranno al massimo un paio di settimane dovrebbero terminare appunto nei tempi tali che insomma non ci siano problemi alla balneazione e alle attività turistiche. È chiaro che l'impegno dell'amministrazione per Sassogna è quello di coprire tutto il setto, tutto il paraggio. Una volta conclusi questi due pezzamenti si passerà all'ultima parte ovvero quella davanti ai bagni Carlo e a fianco della passeggiata dell'Isippo mettendo così fine all'erosione della spiaggia durante le forti mareggiate. Dunque ci siamo impegnati per realizzare una nuova scogliere in aggiunta a questa più piccola, più corta che protegga sia questa parte di spiaggia qui alla Sassogna sia la diga foranea del porto e se la regione manterrà gli impegni che insieme al Comune di Fanno si è presa potremo farcela anche se sarà effettivamente una corsa contro il tempo che dovrà tenere conto sia della possibilità di finanziamento ma anche della disponibilità di materiale e della possibilità inoltre anche di lavorare durante il periodo insomma quando la gente verrà al mare quindi giugno e quindi però su questo siamo fiduciosi perché pensiamo che senza questa scogliera ci potrebbero essere dei problemi alle infrastrutture che il Comune di Fanno ha compresa la diga foranea e anche la passeggiata dell'Isippo. Inoltre ha aggiunto l'assessore abbiamo avuto un finanziamento per concludere a breve la rifioritura delle scogliere in zona Bersaglio nella zona dell'ex pista go-kart con questa operazione insieme a quella di Sassogna Nord metteremo finalmente fine ad una situazione gravosa per tutto il tratto di spiaggia. Vorrei ricordare che vanno avanti speditamente i lavori che sono iniziati già a Metauriglia con la stessa ditta che fra l'altro sta facendo i lavori qui e ci auguriamo insomma che entro la fine dell'anno possano essere chiusi. Ma i problemi non sono solo a Sassonia infatti l'assessore ha elencato anche i prossimi interventi in altri punti della costa fanese. Ponte Sasso a cui verrà fatto un piccolo lavoro di messa in sicurezza di alcune scogliere entro l'estate e poi i problemi ci sono in molti altri posti della città come al nord dell'Arzilla a sud del Metauro appunto Ponte Sasso sto pensando in particolare e tutti i lavori che abbiamo messo in programma che speriamo di poter fare intercettando i fondi PNRR che potrebbero essere messi a disposizione della regione a questa città. Il governo istituisca un fondo speciale da dare subito ai comuni per le famiglie che accolgono i profughi è la proposta lanciata dal sindaco di Pesaro e il presidente Ali Matteo Ricci durante l'Assemblea Nazionale di Autonomie Locali Italiane l'evento che vedrà alternarsi a Firenze tra oggi e domani oltre 300 sindaci e amministratori locali. Chiediamo contributi che possano essere distribuiti a chi ospita queste persone ha spiegato Ricci controllando che nessuno faccia il furbo l'altra proposta lanciata insieme al sindaco di Fano Massimo Seri è quella che ogni comune italiano possa adottare un comune ucraino in base alle dimensioni e alle caratteristiche socio-economiche per aiutarli oggi durante la guerra ha concluso Ricci e per farli ripartire quando il conflitto sarà cessato esattamente come si fece nel dopoguerra quando tanti comuni italiani si gemellarono con quelli tedeschi. Intanto è stato attivato Scuola Pesaro il nuovo sportello del comune in via Cefalonia 5 rivolto ai genitori e a chi si prende cura dei minorenni in fuga dalla guerra verranno date informazioni sull'inserimento negli istituti pesaresi grazie alla presenza di una pedagogista una psicologa e un mediatore linguistico lo sportello è attivo il martedì dalle ore 9 alle 13 ma per accedere è necessario prenotarsi contattando il numero che vedete in sovraimpressione o scrivendo una mail all'indirizzo dedicato. Con l'arrivo della primavera tornano protagonisti anche i fiori e le piante aromatiche questa sera Luana Regini ci dà alcuni consigli per abbellire giardini e terrazzi Quando i raggi di sole iniziano a scaldare gli ambienti e nei prati si tornano ad ammirare le piante fiorite significa che è arrivata la primavera e il modo migliore per dare il benvenuto alla bella stagione è quello di allestire balconi e giardini con tante piante verdeggianti e colorate scegliendo proprio quelle che fioriscono in questo periodo dando il meglio di sé Vorrei dire che è una primavera che tutti aspettavano con molto fermento perché la voglia di comunque stare all'aperto e riprendersi gli spazi del giardino del terrazzo ed è sempre più sentita questa esigenza di curare il verde e di vivere gli spazi esterni e questo è una bella cosa per quello che riguarda la sensibilità del verde la crescita di questa sensibilità soprattutto nei giovani quindi una primavera colorata noi ci auguriamo che le persone trovino piacere in questa attività quindi piantare adesso è il momento di piantare tutto quello che è aromatiche preparare l'orto e quindi le aromatiche che si usano sempre di più in cucina possono essere piantate anche in spazi piccoli quindi anche in città e tutto quello che è food nelle piante diciamo tutto quello che è cibo è sempre più ha sempre più attenzione di un pubblico vasto quello che consigliamo ha proseguito Luana Regini è di coltivare piante da frutto e da fiore oltre alla cura dell'orto arrivi particolari ci sono continuamente ci sono stati c'è una grande ricerca nelle piante come dicevo sia quelle commestibili che le piante ornamentali e soprattutto anche piante che producono il miele quindi che danno possibilità alle api di produrre come dicevo cibo fondamentale adesso ho un cespuglio di rosmarino in piena fioritura con api che girano e si nutrono ed è un piacere vederle e sempre di più piante anche della fascia mediterranea che vengono da tutto il mondo che però hanno una particolarità cioè non esigono tanta acqua quindi un terreno che può essere anche abbastanza asciutto perché purtroppo andiamo verso un clima sempre più caldo siamo attenti nel consigliare ha aggiunto l'esperta sia le piante che si mantengono nel tempo sia quelle che aiutano il nostro clima come le latifoglie negli ultimi anni c'è un'escursione termica come abbiamo visto negli ultimi giorni molto importante anche di 20-25 gradi in un giorno e quindi questo sicuramente richiederà una flora diversa non più la nostra autottona c'è un gusto che sta cambiando e noi siamo contenti allora una comunicazione per tutti i nostri telespettatori domani venerdì 25 marzo la Santa Messa delle ore 7.30 del mattino quella di Fano TV verrà trasmessa dalla chiesa del monastero delle Benedettine di Fano celebra l'Eucaristia Don Antonio Inter Guglielmi lo ricordiamo Fano TV è visibile sul canale 19 del digitale terrestre in tutta la regione Marche e su tutte le piattaforme Smart TV comprese le Stick Fire di Amazon Google TV Samsung LG e sul sito naturalmente di Occhianotizia.it quindi domani mattina alle 7.30 anche per chi volesse partecipare in presenza al monastero delle Benedettine di Fano intanto è ancora in corso sono gli ultimi giorni la procedura per il passaggio al nuovo digitale terrestre anche oggi la trascinzione prosegue nelle province di Ascoli Piceno e di Fermo vi ricordo che lunedì sera torna in diretta Primo Cittadino con il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli Questa sera ringraziamo di cuore il nostro sostenitore Carlo Fioretti Allora subito dopo di noi le previsioni del tempo la pubblicità e poi la programmazione di Fano TV domani alle 7 c'è la rassegna stampa in diretta con Massimo Fughetti grazie per averci seguito arrivederci